eccoci qua due parole e poi forse non ci vediamo più e va a ricevere due parole pure io ve lo dovevo avete saputo per conto di rosalia che l'ha saputo per conto di alfredo che l'ha saputo per conto di lucia che l'ha saputo per conto mio che l'ha saputo per conto un avvocato che io a storia mia non me la posso raccontare più no no stavo da Don Domenico non c'entra niente non me l'ha hitta l'avvocato suo io me l'ha hitta l'avvocato e chi va a girisci pare che la storia mia io non sono nel diritto e va a raccontare per carità non mi chiedete niente perché non ho già capito niente ne manco io l'avvocato mi ha fatto capire che ci stanno certi articoli certe carte ma voi lo sapete io non sace leggere e poi carte legge non mi fanno simpatia fatto sta carita mia come morisce sto bell'avvocato non può essere raggente capò tutta e vita essere essere raggente forse visto l'avvocato pensa purissimo ma l'avvocato è avvocato e ha da fare un mestiere suo io io quando ho iniziato sta cosa di ripidio mi volevo sfuga sentivo che va a fare sta cosa non è che c'è già pensato assai l'ho già sottuta e l'ho già fatta ma poi oggi ha cominciato a vevole bene oggi ho pensato che i fatti della vita mia vi potevano servire per vite vostre che quello che ho già passato io vi potevo far pensare e riflettere e invece niente oggi con me c'è va stare pure Umberto mio figlio chi l'ha studiato sape parla buono e va verria potuto spiegare tutto bene all'italiana mangio preferito e non lo fare nì è meglio così ve l'hanno spiegato noi e come abbiamo potuto ma it lucia ve le dice che sotto a sto video mio nei commenti ci sta un link e che potete firmare una petizione a così ma it io sto fatto non sapeva niente ma l'ha it sempre lucia ma pare che se firmate io la storia mia forse la posso raccontare ancora e mo basta perché ho già parlato veramente assai grazie è stato buono